Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore brilla da sempre, e la sua grazia dura in eterno per quanti lo temono, e la grazia del Signore riempie l'universo, e la grazia del Signore riempie la storia dell'uomo, anche se la storia dell'uomo è cosparso di peccato, di ribellioni, di diffidenza verso Dio, di corruzione, questa storia è destinata ad essere guarita. Questa è la visione che il Signore dona a noi per mezzo della Sua parola. Infatti tutti quei brani della scrittura che parlano della regalità di Cristo, del regno eterno di Davide, fanno riferimento a Gesù Cristo e al suo avvento glorioso. Non tutto si è esaurito con la sua venuta su questa terra, con la sua passione morte e resurrezione. Il regolamento pieno avviene al ritorno di Gesù Cristo, quando le terre saranno rinnovate, quando l'umanità sarà salvata, quando il potere di Satana verrà sradicato da questo mondo, e quando Dio sta preparando. Nella scrittura si legge che Dio pazienta, anche se quando la promessa non avviene immediatamente, ci dice San Pietro nella sua seconda lettera che Dio usa pazienza per dare a tutta l'umanità il tempo di ravvedersi, il tempo di convertirsi. E questo è un tempo in cui noi stiamo vivendo, in cui il Signore chiede ritorno a Lui, chiede la conversione. Non è tempo di lamentarsi dei problemi che stiamo affrontando. Questi problemi sono per svegliare l'uomo, per scuotere l'umanità, per dire all'umanità vedi dove stai andando senza Dio, vedi cosa succede quando l'uomo rifiuta il suo creatore, il suo salvatore. Perciò ecco la parola che il Signore ci dona oggi, in cui la Chiesa celebra la regalità di Maria Santissima, Maria Regina. Perché Regina? Perché unita intimamente al Figlio suo, che è il Signore del Cielo e della Terra, avendo partecipato in tutto e per tutto al sacrificio di Gesù Cristo, oggi regna con Lui. E questo perché? Perché è il piano di Dio, per te, per me, per tutti noi, che la nostra vita non termini con la morte e non terminerà con la morte. Il piano di Dio è di renderci partecipi della Sua gloria eterna. Per mezzo di questi beni, scrive l'Apostolo Pietro, siete diventati partecipi della natura divina. Dio ha posto in noi il suo spirito. Ricordiamolo sempre, come fa Santa Caterina da Siena, che quando Dio ha creato l'uomo, ha ispirato nell'uomo la sua natura, il suo spirito, ha dato la sua vita, ci ha resi partecipi della sua gloria. A questo siamo destinati. La vita dell'uomo non è destinata allo sterminio, alla morte e alla corruzione, no, alla gloria. E quando la Madonna ci ricorda oggi, in Lei tutto questo si è già avvenuto. Allora, come abbiamo visto più volte, la Madonna è per noi il segno visibile dell'autenticità, della veridicità, delle promesse di Dio, come lei si ha adassunto nella gloria, in anima e corpo, così tutta l'umanità è destinata al ritorno di Cristo, a entrare nella risurrezione e nella vita eterna e a riunire eternamente con Lui. Come ci descrive il libro dell'Apocalisse, quando ci dice che non ci sarà più morte, non ci sarà più il dute nell'avvento, ma gioia eterna. Non sono promesse velletarie, no, è qua la visione che Dio ci mette davanti. E oggi la Madonna, nel giorno della festa, della sua regalità, ricorda a tutti noi, invochiamo lo Spirito Santo, perché ci illumini. La parola di Dio viene compresa con lo Spirito di Dio, non col pensiero umano, che non può comprendere i misteri di Dio. Tutto ciò che riguarda Gesù Cristo viene rivelato a noi dallo Spirito Santo. Manda il tuo Spirito, Signore, e tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra secondo la tua promessa. Signore Gesù, tu da ricco ti sei fatto povero per noi, perché rendassimo ricchi per mezzo della tua povertà. Tu ti sei invoverito di tutto per essere pieni totalmente della gloria di Dio. L'uomo si fa ricco rinunciando alla gloria di Dio. Signore Gesù, illumina oggi la vita di tutta la tua Chiesa, perché nessuno si perde dietro le tendazioni di questo mondo, ma tutti troviamo rifugio nella tua parola che ci illumina e ci mette in questa visione di eternità beata che il Padre ha preparato per tutta l'umanità. A te, Gesù, sia gloria in eterno per tutti i secoli dei secoli. Amen. E nella prima lettura di oggi, fratelli, la Chiesa della festa della Madonna, perché si possono anche scegliere le letture del giorno feriale, e che ci offre la Chiesa un brano del profeta Esaia, dove il profeta dice il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce su colori che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscano davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preta, perché tu hai spezzato il gioco che lo primeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo agossino, come nel giorno di Madian, perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mandello indrisso di sangue saranno bruciati, dati in vaste al fuoco, perché un bambino è nato per noi, ci sta dato un figlio sulle sue spalle e il potere e il suo nome sarà consigliere mirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace, grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno che li viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti e qui non si parla soltanto del sollievo che avrà il popolo all'epoca del profeta perché questa longevità del regno di Davide non l'abbiamo visto, il regno di Davide non durò a lungo ma questo regno di Davide figura del regno di Cristo che durerà per sempre. Ecco la regalità di Maria che partecipa al regno di Gesù Cristo e nel Vangelo l'angelo rivolgendosi alla Madonna gli dice rallegreti piena di grazia il Signore è con te a queste parole Maria fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo l'angelo disse non te bene Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco conciperai un figlio come predetto dal profeta Isaia lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo il Signore gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe queste parole fratelli teniamole sempre davanti al nostro cuore perché a volte sembra che le promesse di Dio svaniscano più volte durante la storia il Signore ha ricordato questo evento del ritorno di Gesù Cristo a fine 1300 tramite San Vincenzo Ferrer il Signore fece annunciare alla Chiesa il suo ritorno perché l'uomo passando il tempo si perde si distrae ai nostri giorni con gli eventi che stiamo vivendo il Signore sta richiamando l'eternità del suo regno che lui vuole lavorare sulla terra e portare tutti gli uomini a salvezza eccoci Signore Gesù rinnovaci tutti alla luce della tua regalità oggi tu fai brillare davanti a te non solo oggi ma sempre la regalità della tua Santa Madre a cui hai concesso ogni grazia a cui concede ogni dono perché hai trovato piene conviacenze di lei e tutte le viene concesso come viene concesso ogni cosa a chi porta il tuo nome si arrenda a te si sottometta l'azione del tuo spirito a te Gesù sia gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen Vergine Santissima tu sei stata proclamata regina perché la regina si prende cura del bene del suo popolo e oggi noi ti invochiamo regina ti diciamo salve oh regina ma se tu sei una regina d'amore fa che tutte le benedizioni che hai ricevuto dal padre in Gesù tuo figlio scendono oggi sulla tua chiesa e sull'umanità intera vieni regna tu l'hai promesso alla fine il mio cuore immacuonato trionferà e noi le attendiamo con fiducia ponendo speranza nella tua materna legalità a Gesù sia gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen